Il recupero della diciannovesima giornata del girone H di Serie D è un'altra doccia gelata per il Gravina, che nello scontro diretto in casa della Putiolana si fa rimontare e perde 2-1. Gialloblu adesso all'ultimo posto in classifica e con la salvezza diretta che si allontana. Gaburro cerca gol e vittoria, due componenti fondamentali per la salvezza che però mancano addirittura da gennaio. Confermato il 4-3-3 di partenza con Ghionai, Abayane e Cianci nel tridente d'attacco. Nella Putiolana occhi puntati su Celiento, tra gli elementi più interessanti dei Granata, è sull'ex Catinali. Inizio di gara favorevole ai Murgiani, che creano sortite pericolose dopo pochi minuti di gioco. Romano anticipa Cianci sul cross di Agresta, Ghionai calcia a rete, ma trova una deviazione in angolo. I campani invece si fanno vedere con l'incursione di Guaraccino, che entra in aria ma manda alto. L'occasione più clamorosa arriva però sui piedi di Celiento, che scatta sul filo del fuorigioco, salta Pancratis, ma non trova lo specchio e la posizione defilata. Scampato il pericolo, il Gravina prova a guadagnare nuovamente metri, ma senza creare particolari pericoli alla porta di Romano. Il primo tempo scorre via con le squadre ferme sullo 0-0. Il secondo tempo invece comincia subito con lo squillo vincente dei gialloblu. Ghionai sfugge a Zingaro nell'uno contro uno. Palla in mezzo per De Feo, che è il più veloce di tutti a toccare verso la porta Granata. Il Gravina va in vantaggio 1-0 e trova il gol dopo 77 giorni di interminabile digiuno. La squadra di Gaburo sembra tenere le redini del gioco. La Putiolana sembra innervosirsi, ma a poco più di un quarto d'ora dalla fine arriva la beffa. Cross di massa dalla sinistra, Celiento trova lo spazio giusto per staccare e batte Pancratis per l'1-1 dei padroni di casa. Il pareggio è un colpo durissimo per i murgiani, che nel giro di pochissimi minuti incassano anche il secondo gol. All'ottantesimo i Granata conquistano un calcio di rigore. Bellante viene atterrato in aria. Dagli 11 metri si presenta ancora Celiento, che spiazza Pancratis e fa 2-1 per la Putiolana. Per il Gravina la faccenda si complica e non poco. Il forcing finale produce 6 calci d'angolo complessivi, ma nessuna reale occasione per centrare il pareggio. Finisce con la vittoria dei padroni di casa dopo 5 minuti di recupero, ma soprattutto con il sorpasso al penultimo posto. Murgiani adesso ultimi a 17 punti. I recuperi ancora da giocare sono soltanto 2 e la corsa salvezza si fa durissima. Domenica è previsto un altro turno di stop per il rinvio richiesto dal Nardo a causa dei casi Covid nel gruppo a squadra Salentino.